Espulso perché ritenuto socialmente pericoloso, questa la motivazione con cui è stato allontanato dal territorio nazionale, un tinusino 43enne giunto in Italia irregolarmente nel 1994. Nel 2001 aveva ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di famiglia per aver sposato una donna italiana. Durante la sua permanenza in Italia si era fatto notare per la sua spiccata propensione a commettere reati. Dal 2008, restato disoccupato, l'uomo è stato più volte arrestato e condotto in carcere per reati legati allo spaccio, la rapina, l'estorsione, la truffa e i maltrattamenti in famiglia. Data la sua indole violenta, dopo l'ultima condanna per spaccio di droga, l'ufficio di sorveglianza di Padova ha disposto la sua espulsione. L'uomo è stato accompagnato allo scalo aereo di Bologna, da dove è volato, verso la Tunisia.